Buongiorno, buongiorno. Salve, sono Cioncoloni Antonio. Buongiorno, sono il professor Cioncoloni. Ma che chiede, ma? Cioncoloni? Chi è? Primo giorno? Sì, in assoluto proprio. È che io avrei già dovuto fare due supplenze, solo che ogni volta che arrivavo a scuola mi prendevavo un blocco. Insomma, tornavo indietro. Non riuscirò mai a fare lezioni. Guardi che facile. Tenga presente che i suoi studenti ne sanno sempre molto meno di lei e per quanto lei si possa sentire impreparato in confronto a loro, è Zuckerberg. Non ce l'avevo pensato. È il bello di essere professore. È tutto nelle tue mani. Puoi interrogarli, sospenderli, bocciarli. Potere assoluto. Io l'avevo sempre vista come una missione. Non l'avevo mai vista così. Tu che fai qui? Torna in classe, fila, a studiare. Sì, però adesso non esageriamo, eh. Menni, no? Eh. Qui è zona neutra. Ma in classe, no? In classe tu sei il padrone, capito? Professore, potere assoluto. Potere assoluto. Dai, che ti prendi il primo giorno di lezione da professore. Potere? Assoluto. Dice a mia mamma che lei sembra tossica perché non scudo e se giro quei marci. Anche questa... Questa è la mia mamma che lei sembra 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 che lei